Ben trovati sul canale Yardforex, io sono Arduino Schenato e questo è l'episodio 2 di questo esperimento, di questo mio challenge che ho fatto personalmente, ovvero fare trading con un piccolo conto, episodio 2. Il primo è stato fatto circa un mese e mezzo fa, vi avevo detto che vi avrei aggiornato ogni mese, due mesi, ma anche ogni tre mesi, adesso vedremo quando ci sono un po' di cose da dire e lo farò ancora successivamente nei prossimi mesi. Quindi, interessante quello che è avvenuto, io ho iniziato, adesso non ricordo bene, comunque intorno a metà luglio, forse qualcosa del genere, adesso siamo al 12 settembre, quindi circa due mesi, e sono avvenute delle cose interessanti e quindi adesso voglio mostrarvi. Intanto sono a più, questo fa bene, però non è tanto la percentuale che per carità in effetti potrebbe risultare importante, ma siccome il conto è piccolino, poi io lo faccio sempre anche un po' per me, guardo principalmente quello che è in realtà il guadagno, anche in base un po' ai rischi presi. Quindi questo un po' anche rispetto a, come dire, le perdite, i profitti, come rapportano tra di esse, e io ovviamente come l'altra volta vi aprirò il conto e andrò a vedere però anche quello che è successo mese per mese, visto che con IG c'è il Trade Analytics e lo possiamo vedere proprio insieme, è tutto ovviamente reale con l'aggiornamento proprio fatto praticamente qui, in questo minuto. in cui vi sto, in questo momento in cui vi sto parlando. Allora, andiamo a aprire il conto, eccolo qua. Il conto è partito da 3.000 euro, ho aperto un conto proprio da nuovo, un sottoconto da nuovo, l'ho fatto partire, come vedete, proprio dall'1 di luglio in realtà, poi sono partito un po' dopo, perché noi abbiamo fatto, adesso non ricordo esattamente la data, però sono partito un po' dopo. e avete visto, adesso vi farò vedere, ho avuto un inizio leggermente buono, poi sono andato giù, il mese di luglio è stato un mese un po' particolare per me, e poi però da lì ho dato una sterzata e agosto è stato un buon mese, settembre, in questo momento che vi sto parlando, sembra essere un buon mese. e quindi al momento sono sopra di 430 euro, in questo circa mese e mezzo, quasi due mesi di operatività, e questo, adesso vi faccio vedere, è proprio il totalone al momento. quindi si è iniziato, vedete così, e poi si è andati su. Queste sono nel totalone i dati, che si possono sicuramente migliorare, cioè 1,20 tasso rendimento comunque discreto, percentuale profitti, vabbè, questa importa poco però, 54%, 1,22 a 1, profitto medio 55,75, parità media 45,87, quindi buono, poi vabbè, c'è tutte le operazioni effettuate, vabbè, dopo questo, ok. ho lavorato molto sul forex, sulla mia lista principale, ho fatto qualche titolo, ma principalmente forex, oro, petrolio, e i maggiori indici. Media mantenimento, 3 di profitto, 19 ore, media mantenimento in parità, un giorno e un'ora, però vabbè, questo è simile, diciamo, migliorabile. Il mercato peggiore è stato quello dell'Australia, 200 cash, in effetti ho provato nel mese di fine luglio, se non sbaglio, avevo provato a fare un trade sul mercato che conoscevo poco, ho provato un po' a spingere lì, e lì è stata anche la perdita proprio peggiore, vabbè, ci poteva stare, ci poteva anche non stare. Comunque, questo è il rendiconto totale, però io volevo vedere con voi mese su mese, perché il mese di luglio è partito maluccio, è nato maluccio, e quindi partirei dal mese di luglio per poi andare a vedere quello di agosto, quello di settembre, dove in effetti c'è stato proprio un cambio di paradigma mio nel proprio fare tutto quello che stavo facendo, però voglio con voi, con trasparenza, andare a vedere dal mese di luglio, mese di agosto, mese di settembre, questo ovviamente è il totalone, che comunque è un buon profitto, sicuramente questo è un conto che con voi vorrei continuare a fare, e vorrò portarlo molto più in alto di quello che è in questo momento, però ovviamente si parte con calma, soprattutto perché poi il mese di luglio, ripeto, ho avuto delle gestioni forse un pelo azzardate, se vogliamo, dove ho tenuto un po' troppo le perdite, questo è stato il mio errore principale, però insomma ci sta, allora personalizzato, bene, andiamo a prendere solo il mese di luglio, quindi dall'1 al 31, imposta, eccolo qua, vedete che il mese di luglio è stato un meno, variazione negativa, meno 424 euro, quindi non bene, ripeto, so bene i motivi che mi hanno portato a avere un costo nel mese di luglio, ho proprio lavorato non bene, ecco, ho fatto delle operazioni che da un punto di vista tecnico potevano essere buone, ma rivedibili, senza conferme operative, ho usato dei rischi, anche per il conto, forse un po' troppo grossi, e ho, la cosa che ho visto, insomma, ho mantenuto alcuni trade in perdita, forse un po' troppo tempo, dovevo chiuderli prima, tant'è che vedete, il tasso di rendimento è sotto l'1, che non va bene, anche la percezione dei profitti era sotto il 50%, e quindi anche il rischio di rendimento era basso. Mantenimento di trading profitto e parità simile, un po' più di un giorno, vabbè, questo è un po', quindi nel mese di luglio è stato un po' così, però nel mese di agosto, soprattutto da fine luglio, una lettera che ho anche mandato a tutti i platinati, dopo aver visionato gli ultimi quattro anni di trading, dopo che sono andato a prendere i migliori mesi della mia storia, degli ultimi quattro anni, potevo prendere anche quelli del 2010, però ovviamente forse servivano a meno, ho preso gli ultimi quattro anni e sono andato a prendere i momenti in cui ho fatto i migliori profitti, in cui sono andato bene, e gli ultimi tre anni sono stati tra i migliori anni di trading che ho fatto su tutti i vari conti, questo è uno dei conti, in realtà poi io spesso replico delle operazioni su tutti i vari conti, a volte ne faccio qualcuno in più su un altro, qualcuno in meno su un altro, però insomma più o meno questo è un piccolo estratto, e quindi sono praticamente, mi sono messo molto in focus e ho utilizzato completamente un cambio di paradigma, tant'è che poi il mese di agosto, dall'1 al 31, quindi agosto 2024, eccolo qua, praticamente ho fatto 441 euro, quindi ho ripreso, il costo che avevo avuto è diventato un profitto, quindi insomma devo dire che ho lavorato veramente bene, guardate, profitti, perdite, posizioni chiuse, 479 euro, totale variazione in meno 38 euro, questo è sicuramente un ottimo mese, ho iniziato, guardate, tasso di rendimento 1,49, quindi ben sopra l'1, circa 1,5, 67% di trade fatti in profitto, e rapporto profitti e perdite 1,24 a 1 con perdita media 42 euro, profitto medio 52 euro, 19 ore mantenimento di trade in profitto, 5 ore in perdita, quindi molto molto bene, ho fatto, ho proprio ripeto, sono ritornato a fare quello che facevo fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, dove praticamente ho sempre lavorato weekly, daily, però il daily con conferme H4 e quindi con un'operatività che è stata veramente sniper, lavorando con rischi molto più bassi anche di quelli che ho preso nel mese di luglio, ma ho guadagnato molto di più, rischiando molto meno e lavorando molto di gestione operativa con i trailing stop, con ciò che mi diceva il grafico e con nessuna aspettativa, quindi molto l'impatto mentale ha voluto dire, ho gestito le cose in tutta l'armonia, ho chiuso perdite piccoline, appena il mercato iniziava a darmi dei cenni contrari, ho sempre chiuso le posizioni, non ho mantenuto mai le perdite a lungo e questo è stato un risultato direi molto molto importante anche perché sapete quando si arriva da un mese in perdente o da un periodo un po' perdente nel trading è sempre difficile subito tirarsi su in questo modo, cioè riprendersi tutto quello che poi il periodo precedente, in questo caso il mese, aveva fatto, ma in realtà la mia esperienza mi permette di poterlo fare è ovvio che se uno fa trading da due anni, magari ha meno, o due o tre anni, quello che è, ha meno facilità nel fare degli switch che sono mentali prima di tutto e poi diventano operativi, però insomma qui c'è un'esperienza ormai di lungo corso e quindi ho lavorato davvero bene, ovviamente sempre solo price action, quindi lavoravo con le strutture di price action, con i fake out, con i classici trigger miei, gestione dell'operazione molto, come dire, molto valida, dove si andava a lavorare sulla price action anche sulle chiusure, quindi senza target, non ho lavorato praticamente mai con i target, sempre attraverso la price action, come entro con la price action? Sono uscito, diciamo, con la price action andando anche a train stoppare, quindi un super agosto. Il mese di settembre in questo momento che sto registrando è il 12, lo potete vedere, al momento sta andando bene, andiamo a prendere anche qui periodo personalizzato, abbiamo detto dall'1 di settembre, oggi è il 12, quindi poi vedremo, adesso il prossimo video lo farò tra qualche mese, adesso vedremo un po' anche quando ci sono delle cose un po' più da dire, comunque seguite questa rubrica se vi piace, eccolo qua, nel mese di settembre, i primi 12 giorni sono già più 412 euro, quindi anche qui al momento il mese sta andando bene, vediamo se riuscirò anche a raddoppiare questo, mi sarebbe la cosa l'ideale, sarebbe riuscire ad arrivare a 800 su questo conto, quindi andare intorno ai 3.800, vediamo, non ho obiettivi, l'unica cosa che guardo è il processo, quindi cercare di lavorare bene su quello che c'è a lavorare, prendere rischi che sono comunque mediamente piccoli, per questo conto sicuramente non sono piccolissimi, però io non sono abituato e non riesco a lavorare con 30 euro di rischio, 40 euro di rischio, lavoro comunque con degli stock un po' più grandi e con dei profitti anche un po' più grandi, quindi ovviamente non sto guardando la percentuale di rendimento, non è questo, quindi anche se comunque è buona, perché uno dice, cos'è questo qui, forse un 12-13%, non è questo il coso, ma il guadagno è quello che è il rischio profitto. In questo caso vedete, profitto perdite, posizioni chiusi, 449 euro, totale variazione negative 36 euro, sono al momento riuscito a mantenere profilo di rischio molto molto basso in questo settembre, dove, vabbè, qui il tasso di rendimento esplode, settembre sta andando molto bene, 2,57, quindi tasso di rendimento superiore, molto superiore a 1, vedete che la percentuale di profitti si abbassa un po' rispetto a prima, 56%, ma in questo caso proprio perché ho chiuso spesso in perdita con pochissimi euro, quindi ovviamente sale la percentuale di perdita, ma in realtà si guadagna di più, ed eccolo qui, rapporto profitti-perdita addirittura a 3,62 a 1, tant'è che vedete il profitto medio di 105 euro, quasi 106, perdita media a 29 euro. Non sarà facile mantenere ovviamente un profilo così, non voglio neanche avere l'obbligo di chiudere per forza quando c'è poca perdita, ma ho sempre definito il mio trading in base a quello che vedevo e quindi chiudevo quando vedevo che il mercato non ne dava più, sia se ero in profitto che se ero in perdita. Quindi sempre legato alla price action, sempre legato a un daily 4-6 ore che sono stati time frame molto più operativi che io proprio ho tradato in questi mesi. Tra l'altro tutta l'operatività è stata passata ovviamente e mostrata nel Platinum, che è il nostro programma servizio pratico operativo e quindi sono molto contento perché tutte queste esperienze, queste evoluzioni e questa modalità operativa è stata cercata di trasmettere anche a tutti gli abbonati al mentorship che abbiamo. Guardate, media tempo di mantenimento, questo in questo caso è stato veramente poco, media 5 ore, in effetti sono riuscito al momento a colpire e affondare, quindi i trade che ho fatto sono stati, e quelli che poi, vedete qui c'è stato per esempio un trade su dollaro yen che era andato un po' in perdita, l'ho chiuso subito perché non mi piaceva più, le 4 ore successive si è riformato il trigger segnale per uno short ancora, e l'ho rivenduto e lì nel giro veramente di 7-8 ore il mercato ha dato un bellissimo profitto. Media tempo di mantenimento in perdita, questo un giorno e 16 ore in realtà è molto di più, ma perché questo probabilmente, vedete il mercato dove già era stato l'euro-dollaro, ma in realtà è stata una perdita, è stato che il mercato era praticamente forse a meno 10 euro, meno 15 euro, è rimasto lì per un po' e poi si è mosso, e quindi lui mi dà appunto questa giorno e 16 ore, però ci sta, è questo. Quindi abbiamo fatto praticamente un ottimo, da quando è cambiato diciamo un po' il paradigma, cioè da quando sono ritornato a fare più le cose che ho fatto fino a un anno e mezzo fa due, quindi con le conferme a quattro ore, da un weekly daily come analisi, sempre price action, guardate un po', quindi dal primo di agosto c'è stato praticamente un cambio completamente risultato, 854,58 euro, ripeto sempre con un conto da 3.000, che era diventato 2.006, ma che poi è diventato adesso 3.425, 854 euro con profitti chiusi 9,29 e meno 74, è un equity line anche vedete con drawdown molto lievi, forse quasi nulli, tasso di rendimento, ecco questo più reale 1,75, 63% di profitti e 1,77 a 1 rapporto profitti perdite con 66,82 euro profitto medio, 37,74 euro perdita media, con 15 ore più o meno di mantenimento del trading profitto e 18 ore trading perdita, questo mi sento di dire che è un po' più reale, a settembre veramente è anche troppo, poi vediamo i momenti di run up positive possono durare anche più tempo e quindi bene, anzi un buon trader riesce a far durare di più il run up rispetto al drawdown, ovviamente un trading discrezionale perché automatico è tutta un'altra questione, tutto un altro modo di approcciare al mercato e quindi questo è il tutto facendo le mie classiche pin bar, i miei fake out, i light trigger, la struttura, supporti, resistenze, livelli di domanda, livelli di offerta, tutto questo quindi con un trading semplicemente old school, ok? Bene, allora vabbè, se volete commentare mi fa piacere, ovviamente cerchiamo sempre di rimanere in toni educati, io vi ringrazio, ci vedremo poi per un prossimo video riguardante l'episodio 3, vedremo come starà andando e basta, quindi buon trading simple, grazie a tutti e buona giornata, ciao!